Ma che c'è finisci verso a fuori? Mamma mia! Che cerita che ci arrivo! Ah, finisci questo? Non la faccio lì che ci ho mai! E voi le secchiette? Perché non si rima della notte voi? E certo, ma non lo capisci che ci hanno dato! Ci vedi? La tua abilità, ci vedo qui, c'è un bello! La tua abilità, per questi calchi, per i calchi, ti porterò lontano! Vivi la tua vita al massimo ogni giorno! Allora mi devo riscatenare! Ok, allora... Con la sorpresa! Tu potrai di pace e armonia nella tua abilità! Cazzo, te lo dobbiamo sparecchiare! Cazzo, dai! Cazzo, dai! E' una cosa, non vedi? Fatta assieme, dai! L'ospite non è venuto! L'ospite non è venuto! Vai! Va bene! Va bene! Ah! Abbiamo più, c'è un ristorante! Ce ne possiamo pure andare! Sì! Cazzo! Cazzo! Cazzo!